Oltre 100 opere per raccontare il percorso artistico e il genio del più celebre artista pop degli anni 80, Keith Haring. Dopo le talpe americane in Missouri, New York, Florida e Pennsylvania, la mostra Keith Haring e Radiant Vision è arrivata in Italia, con l'orangerie della Villa Reale di Monza che la ospiterà fino al 29 gennaio del nuovo anno. In un viaggio tra manifesti, disegni su carta, street art e disegni metropolitana, con gli iconici Radiant Baby, ormai facilmente riconoscibili da tutti, l'esposizione prova a raccontare Keith Haring attento ai temi della giustizia sociale e dei diritti civili. Sostegno alla descalation nucleare, al benessere dei giovani, alla sensibilizzazione sul tema dell'AIDS, ritornano continuamente nelle sue opere, rendendo la sua pop art simbolo emblematico della cultura americana dell'epoca, ma creando allo stesso tempo un filo diretto con i nostri giorni. A una settimana dalla inaugurazione, la mostra si è rivelata fin qui un successo, con un'ampia partecipazione di pubblico sin dai primi giorni. Radiant Vision si divide in nove sezioni, dall'iconografia, un racconto della passione di Haring per lo studio dei simboli e di come è nato il suo lexico visivo, alle sezioni dedicate alla giustizia sociale e al lavoro fatto con i giovani. In mezzo, pezzi unici come la Kalish Suite e Medusa Head, la più grande stampa realizzata dall'artista, dal potente messaggio di fondo. Il mostro del mito greco come simbolo degli effetti mortali dell'AIDS, quella malattia che ha segnato in profondità l'epoca di Haring e che mise fine alla carriera e alla vita dell'artista. Anche da qui passa il tributo a Keith Haring, il giovane artista che sognava un'arte non elitaria, ma per tutti un'arte in cui, come accade effettivamente oggi, riusciamo a rivivere con forti emozioni il passato, ritrovando tracce del nostro presente.